La discografia è morta e allora il discorso si chiude con, e quindi chi paga? Chi fa musica sta facendo la fame perché gli unici che pagano sono le piattaforme come Spotify ma pagano pochissimo. I cantanti famosi, tre quarti dei cantanti famosi facendo un concerto si indebitano e allora la domanda è, e di questo ne abbiamo parlato se volete lo rispieghiamo, c'è tutto un meccanismo in cui le case discografiche enorme prendono il 90%, poi propongono un concerto grande, poi dicono al cantante guarda è andata male ma possiamo rimediare, compriamo noi dei biglietti, facciamo l'effetto tutto esaurito, poi tranquillo te li scaleremo dai soldi che verranno. Il cantante in mano di queste persone per non fare brutta figura accetta ed ecco che però continuano ad uscire tutta una serie di interviste in cui anche cantanti celebri continuano a dire io ero pieno di debiti, io non ce la facevo più, io continuavo a fare concerti ma non guadagnavo niente.